Grande partecipazione sabato mattina per la giornata ecologica organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Di Mattia nell'ambito del calendario Sant'Arpino d'estate. Un folto gruppo di volontari, a partire dalle 9, ha provveduto ad effettuare la manutenzione del verde interno e delle aree esterne della villa comunale Domenico Cirillo. Alle 11 alcuni amministratori hanno accompagnato un folto gruppo di bambini a piantare degli alberi e successivamente è stato offerto a tutti i volontari un aperitivo a chilometro zero da Pio del Prete e del Ristorant. Numerose sono state le associazioni che vi hanno preso parte, tra cui il Movimento Ambientalista Terra Mia, Scusate il ritardo, Geofilos Lega Ambiente, Event Art Lab, Spazio Virale, Chi pianta un albero pianta una speranza e la locale Proloco.